Anche il Comitato di Intesa, ente gestore del CSV di Belluno, ha preso parte quest'oggi alla prima delle due giornate Erasmus Days 2018, ossia le giornate Erasmus in programma il 12 e il 13 ottobre, un appuntamento annuale europeo dove i protagonisti sono i giovani per parlare di mobilità all'estero. Il Comitato di Intesa lavora dal 2015 con il programma Erasmus+. Sono diverse le proposte di mobilità che si possono fare all'estero, dagli scambi di giovani ai corsi di formazione ai progetti di volontariato internazionale. Dal 2015 ci sono più di 150 i giovani bellunesi che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza all'estero. Vari gli eventi proposti che hanno preso il via nel pomeriggio di oggi alla Casa Conza di Sedico con due attività. Oggi pomeriggio apriamo queste due giornate con due eventi, la Human Library e un aperitivo linguistico, e domani invece una conferenza sul programma Erasmus, opportunità e prospettive del futuro. Eventi quindi che abbiamo organizzato per festeggiare e celebrare questo programma che ha offerto e che continua ad offrire opportunità di mobilità internazionale per molti giovani. E quindi anche noi abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa proponendo questi eventi.